Left to Exile, il brano per il disco, molto secco e diretto, diciamo che è una delle poche volte in cui abbiamo utilizzato Last Beats. Non nego che come arrangiamento mi ricordo il Melodic Deaths vedese, un po' su quella che è la tendenza di quello stile lì. Caratterizzazione principale è che ha un tema che si ripete praticamente per quasi tutta la struttura della canzone ripetuto su diversi ottaboli, un po' con la chitarra di Lorenzo. Questo è il brano che sicuramente ha più impatto qui sotto l'album, parte con questo Last Beat che era il modo migliore per iniziare sia il brano che l'album.